pace a tutti ben sintonizzati sulla frequenza radio di radio messaggio cristiano sul nostro canale youtube e la nostra pagina facebook sta iniziando il culto ascoltiamolo insieme pace buon ascolto e buona visione santissimo nome o signora alleluia l'ode onore e gloria a te padre santissimo insieme agli angeli del cielo alleluia insieme ai signore serafina e chirubina tutto l'esercito tuo celeste io signore sia fatta soprattutto signore in questi ultimi tempi sia fatta la tua volontà qui in terra come lassù nel cielo gloria al tuo nome che si veda la tua gloria o signore che noi possiamo vivere nella tua gloria per la tua gloria insieme a gesù che con te lo benediciamo in eterno alleluia amen amen per provare il mio Dio d'amore sono ancora in questa casa per perdere il tuo democchio e sentirti nel mio cuore il mio Dio di 312 per perdere il mio Dio daste l'amore di norma Voglio dirti quel segreto che nessuno può capire che il pensiero mio nascosto cambia il cuore nel quanto è indietro. Il pensiero del sol, si mi nascosto è perduto, a volarmi con un confiuto della granscia e del perdono. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' importante che non ci dimentichiamo questo, di ringraziarlo. Perché vedete quando siamo a casa o da soli, noi lo ringraziamo personalmente. Poi il Signore, vedete, ha fatto la chiesa o le chiese perché lui possa radunare i suoi. D'altra parte perché ha fatto, vedete pure allora, inizialmente ha fatto fare il tabernacolo nel deserto, vi ricordate? Ha fatto costruire il tabernacolo nel deserto. Perché ha fatto costruire il tabernacolo nel deserto? E se ci fate caso, che in questo istante il Signore mi ha dato subito anche da capire, perché vedete quando esce una frase dalla mia bocca, il Signore mi dà da capire pure il perché mi fa uscire, mi fa dire determinate cose. E allora, se ci fate caso, il tabernacolo, quando il Signore gli fece costruire il tabernacolo, non gli fece costruire soltanto il luogo santo e il luogo santissimo. È vero o no? Allora, no? Gli ha fatto costruire pure, alleluia, il cortile, alleluia, dove appunto si dovevano radunare, raccogliere tutti i credenti, alleluia, amè? E dove appunto loro assistevano ai sacrifici, agli olocausti, ecco, agli ammaestramenti. Quando il Signore poi gli fece costruire il tempio a Gerusalemme, è che il luogo santo e il luogo santissimo sono stati nuovamente, diciamo, costruiti. Però, prima, mentre, prima erano costruiti tramite tende, teli, dei teli, allora, quando gli fece costruire il tempio a Gerusalemme, il tutto era fatto invece in muratura, il legno rivestito d'oro, a secondo dove dovevano essere altre cose rivestite di argento, altre cose di rame, amè? Glorie a Dio. E allora, noi vediamo che il cortile è stato, vedete, pure fatto. E, se ce ne accorgiamo, che Gesù pure, vedete, una volta prese il libro, lesse e spiegò la legge di Mosè. Eh? Glorie a Dio. E allora, lì veniva spiegata la parola di Dio. Quindi, vedete che, sin dalle origini, Dio ha stabilito per il suo popolo un luogo per adorare Dio, per onorarlo e per ascoltare la sua parola, per essere ammaestrati. Le chiese, vedete, pure, alleluia, le ha fatte, vedete, costruire, è come se lui gli avesse fatto costruire un tabernacolo a ciascuna chiesa. E quindi, un luogo santo, amè? Un luogo santissimo, da dove lui parla, vedete, il luogo santo, ora, grazie a Dio, è tutta la chiesa il luogo santo. Perché? Perché, tra il luogo santo e il luogo santissimo, se vi ricordate, c'era la cortina del tempio, cioè il velo di separazione. Quando Gesù morì, e allora dice che la cortina del tempio si squarciò in due da cima a fondo, quindi è stata eliminata, ecco, con il sacrificio di Cristo. Quindi, per dire, ora non c'è più la separazione tra il luogo santo e il luogo santissimo. Ora, quelli che si trovano nel luogo santo possono ascoltare direttamente e possono assistere a ciò che si fa nel luogo santissimo. Allora, ecco, lui dove sta? Nel luogo santissimo. E quindi per parlare ora a quelli che si trovano nel luogo santo. Per essere ammaestrati. Alleluia. E tutti, appunto, non dobbiamo dimenticarci, quindi, di ringraziare il Signore se ci troviamo qui. Perché ci troviamo davanti al luogo santissimo, effettivamente. Allora, da dove lui parla, ci ammaestra. Amen? Quindi un grazie sentito, no? Tanto che dobbiamo venire... Io dico, io questa sera devo andare nella casa del Signore, là dove lui ha stabilito, perché lo voglio ringraziare. No, perché ci voglio ciancere. Ci voglio domandare questo dedo, no? Quelle cose. Amen? O savaglio, o la... No, io devo andare nella casa del Signore per ringraziarlo. Poi se uno vuole ciancere, vuole ciancere, ciancere la casa. Che c'è da male? L'ho bugnato che altro? Mai avete cianciuto la casa davanti al Signore? Eh? Io sì. E che bello quando uno ciancere davanti al Signore, no? Ah, si apre, si sbaganza tutto, ah, tutto quello che c'è da... Dio, alleluia, alleluia, gloria a Dio. Quindi questa sera, mentre la casa ciancemmo, cavolo, diciamo grazie Signore per il tuo amore per me. Alleluia, amen? Vogliamo andare adesso in preghiera e come sempre non dimentichiamoci di tutti coloro che sono assenti. Amen? Amen? Alleluia, benedetto e santo tu sei, sì, alleluia, alleluia, gloria al tuo nome, alleluia, gloria al tuo santissimo nome, alleluia, alleluia. Così, oh Signore, ti vogliamo presentare, Signore, tutti quelli che non conosciamo e quelli che conosciamo. Signore, tutti quelli che sono convertiti e quelli non convertiti. La nostra preghiera aggiunga a te, oh Signore. Questa è una supplica, Padre. Ti supplichiamo nel nome di Gesù. Salva il salvabile, oh Signore. Fai dire la tua voce, oh Signore, per monti e per valli. Aramata canda la massia, sì, Signore. Salva, Signore, parla ai cuori. Si suscita, Signori, i dormienti. Alleluia, gloria al del Messia, alleluia. E che, Signore, vi sia un popolo, Signore, zelante, un popolo, Signore, pieno di potenza, di Spirito Santo, che ti onori sia di giorno che di notte, alleluia. Gloritele in del Messia, sì, oh Signore, grazie. Alleluia, sì, grazie, Padre. Alleluia per, Signore, questo meraviglioso, Signore, istante, momento. Alleluia, grazie a te, Padre, che non tieni nascosta, Signore, la tua parola. Alleluia, e che ci riveli ogni cosa a suo proprio tempo. Aramata chiam dalla massia, alleluia. Quindi l'odio, onore e gloria a te, Padre, a Gesù e allo Spirito Santo, benedetti in eterno. Alleluia, amen, amen, amen. Alleluia, grazie a te, Padre, a Gesù e alleluia. Alleluia, grazie a te, Padre, a Gesù e alleluia. Grazie a tutti. 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 Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Alleluia. Quindi guardate anche con gloria all'altissimo come il Signore non cambia. Gesù cosa ha detto allora? Che cosa ha detto poco fa? Che noi quando preghiamo dobbiamo dire dacci oggi il nostro pane quotidiano, no? Di ogni giorno, di ogni giorno, non pensate male, perché questo signore si mangia pure il pane duro. Qualcuno può pensare e dice, dacci oggi il pane quotidiano? No, dacci oggi il pane quotidiano perché non per avere un pane fresco, ma per abituarci a confidare in Dio e a chiedere a Dio ed essere grati a Dio giorno dopo giorno. No, perché se il signore ci dobbiamo, perché se il signore ci dovesse provvedere il pane per oggi e per domani, noi ringrazieremmo il signore grazie per il pane che ci ha dato oggi, no? Che uno si vede a trovare il pane, poi domani, possibilmente ci ringraziaere, c'è bisogno, insomma, ringrazie a Dio e quindi si dimenticherebbe di ringraziarlo pure l'ondomani, no? Invece di dire, aspetta signore, io te lo do tutti i giorni, così tu mi ringrazia tutti o no? A me? Se ci fate caso, quando il signore insegnò agli apostoli, quindi nel Nuovo Testamento, di chiedere il pane quotidiano, Nel Vecchio Testamento, eh, la manna gliela faceva raccogliere ogni giorno, se ci fate caso, quindi, però era come se il popolo di Israele pregasse così. Allora nel Nuovo Testamento, signore dacci il pane ogni giorno, Vecchio Testamento, signore dacci la manna ogni giorno, Grazie per la manna, nel Vecchio Testamento di ogni giorno, nel Nuovo Testamento, grazie il signore per il pane di ogni giorno. Amen. Vedete come il signore è lo stesso, era, certo, ci sono cose, come sempre il signore mi ha fatto spiegare, non per la mia sapienza, ma per la sua grande benignità che ci ammaestra, ci sta ammaestrando in ogni cosa, ci sono, è vero, cose che nel Vecchio Testamento si facevano e che oggi non si devono fare più, ma quelle erano cose che riguardavano la persona di Gesù, quindi che se noi le facessimo oggi, allora noi offenderemmo Gesù l'opera che lui ha compiuto. Amen. Quindi perché Gesù, infatti, dice, non è venuto per abolire la legge ma per ademperla, per completarla. Cioè perché se lui, vedete, perché ha detto questo? Perché lui l'ha completato, ha detto giusto, quindi la giusta versione sarebbe quella che lui l'ha, non è venuto ad abolire, ma a completare. Allora, per farmi capire meglio, per farmi capire meglio, se il muratore ha intonacato i muri, avanti un muro, avanti un muro, ha intonacato il muro, no? Poi lo ha rifinito, no? Ghimono, insomma, rivenisce cosa? Allora, poi il muratore, poi dice, io il lavoro che devo fare l'ho completato, no? Arriva, come si chiama, bianchino, no? Come si chiama? No, bianchino diciamo in dialetto, no? In bianchino, insomma, il pittore. Arriva praticamente, in bianchino il pittore è quello che è, no? E uno ignorantemente ci dice, dice, chi è lei, no? Il guardiano, il guardiano di quella casa, dice, chi è lei? Dice, sono l'in bianchino, ho un vottore, ho un muratore, ho un muratore, ho un bianchino. Ma io non sono venuto per demolire un muro che ho... Ho un muratore, ho un vicino, per rivenirlo, per completarlo. Chi facile così non lo sapevo spiegare. Amen? Quindi, il Vecchio Testamento ha edificato. Amen? Gesù è venuto e ha completato. Io non sono venuto per abolire, per rompere un muro una sola volta, ma per completare, alleluia, perché effettivamente, vedete, praticamente si fa, come il Signore mi ha fatto spiegare qualche altra volta, perché nel Vecchio Testamento, ecco, i muratori facevano, diciamo, un lavoro che si doveva, perché loro erano coscienti di quello che facevano, no? Perché dice, noi facciamo questo, gli prepariamo il lavoro a coloro che devono venire dopo di noi per completare. Amen. Quindi la legge di Mosè è stata preparatoria e facevano, e allora il Signore, per far capire l'importanza del lavoro che loro stavano facendo e che non lo dovevano disprezzare, anzi lo dovevano apprezzare, il Dio è come se, no è come se, il Dio richiedeva la massima attenzione, la massima ubbidienza, il massimo della santità di Dio in ciò che facevano, perché appunto, anche se l'opera era incompleta, però era indispensabile. Amen. Quindi poi, e allora, Gesù è venuto, l'ha completato, alleluia. Però noi non possiamo dire, ah, Ghibiero, Vecchio Testamento, e non si è bicchiù, alleluia. Perché quelle sono le fondamenta, alleluia. E poi il Signore, tante cose, continua a farle come nel Vecchio Testamento. Che so, per esempio, come quando, eh, allora, a sto punto, dici, quello era il Vecchio Testamento. Allora, siccome dieci comandamenti sono state date nel Vecchio Testamento, allora dici, io sono il Signore, è Dio tuo, non avrai il tuo Dio all'epoca, no, ama il Signore. Allora dici, niente, chi tu era il Vecchio Testamento, quindi, lo vamo, è giusto, lo vamo. Poi, ama il tuo prossimo come te stesso, no, chi tu era il Vecchio Testamento. Onora tuo padre e tua madre, no, ma chi tu era il Vecchio Testamento. Non dire falsa testimonianza, ah no, ma chi tu era il Vecchio Testamento. E c'è scritto pure, non commettere adulterio, però, ecco, e questo vi dico anche una cosa, che ve lo dico come è vero che l'Eterno vive, che nel passato, eh, a livello di anziani, aprite bene gli orecchi, a livello di anziani, non sapevano che cosa volesse, che la differenza che ci fosse tra adulterio e fornicazione. Ve lo dico in verità, non lo sapevano. Dice, perché, come fai tu a dire che non sapevano? Perché c'era io presenti, in alcune case. Che dicevano, e infatti, chi diceva una cosa, chi ne diceva un'altra. Amen? Alleluia. E allora, la stessa cosa, ecco, che non sapevano dare una risposta affermativa di che cosa fosse lo Spirito Santo. E che cosa fosse, padre, figlio e Spirito Santo, c'era che diceva che era uno, sempre uno, dove sono ceppati. Quindi, vedete, c'è stata sempre discordanza in diverse cose. Alleluia. E allora? Lo dico, cioè, guardate, non è che è un discorso come voi, voi lo sapete che io non mi parlo mai delle scorse e non parlo se il Signore non mi spinge a dire certe cose, perché questa piccola chiesa deve essere ammaestrata e deve essere una piccola chiesa non bambina, una piccola chiesa adulta. Amen? Gloria a Dio. Quindi, praticamente, tra adulterio e fornicazione c'è un abisso, invece. Allora, seguitamente, adulterio è quando avviene un tradimento tra persone sposate. Quello è adulterio. Fornicazione è quando prendi caso, esempio, della gioventù d'oggi, che chiasi e nesci, eh? Non c'è più nessun uveggio, nei femmini, nei mascoli, non si capiva più niente. Amen? Quella è fornicazione. Alleluia. Amen? Fornicazione è fare sesso. Adulterio è tradire, tradimento. E allora, attenzione, la fornicazione può avvenire anche mista. Se, per esempio, ascoltate, e per queste cose, noi le dobbiamo, noi, il Signore, ci sta facendo veramente professore di professore. Allora, state attenti? Eh? Io ringrazio Dio perché mai mi aveva fatto trattare questo argomento e questa sera me lo sta facendo trattare. E glorifico Dio. Perché so che questi evulti devono andare in onda, eh? e i veri servitori di Dio attingeranno e ne faranno un grande tesoro. Allora, ci può essere, invece, ad ulteriori e fornicazioni. Cioè, misto. E c'è come? Quando, per esempio, quando un uomo non sposato, eh? Un uomo non sposato si mette con una donna sposata. La donna commette adulterio, l'uomo fornicazione. Alla rovescia. Quando una donna non sposata si mette con un uomo sposato. L'uomo sposato commette adulterio, la ragazza commette fornicazione. E lo fa sempre per piacere, per fare sesso. Quella è fornicazione. Amen? Glorie a Dio. Che bisogna evitare tutte e tre. O tutti e quattro. Amen? Quindi, adulterio, fornicazione, fornicazione è da parte dell'uomo, fornicazione è dalla parte della donna, adulterio è dalla parte dell'uomo, adulterio è dalla parte della donna. Amen, gloria al Signore Gesù. Tanto è vero, seguite, tanto è vero che il re Davide, quando è stato considerato un adultero, per chi aveva, cacca qua c'è una moglie, numero quattro, numero quattro, che non l'hai contato, ma che non l'hai contato? Il re Davide aveva più moglie, perché allora i re potevano avere più moglie e non facevano uno scandalo a nord. Va bene? Allora, perché era quella la legge, come per esempio ai tempi di Giacobbe, che anche le serve venivano date al padrone nel caso la moglie fosse stata sterile. Amen? Allora, la serva poteva dare dei figli a posto della padrona. Insomma, sono delle leggi, delle usanze del passato, vedete che Dio ha sempre tollerato, insomma, l'ha accettato, dice, tu sei uomo, fai che preoccupate, basta che non, ecco, che non commetta il piede, che non pecchi. Amen? Allora, e allora, quindi, quando invece il re Davide è stato, vedete, rimproverato da Dio, alleluia, quando lui ha fatto uccidere Uria, eh? Il marito di Bethesabè, lì, Bethesabè, Amen? Perché ha commesso adulterio e omicidio, perché lui si è unito con la moglie di Uria prima ancora che Uria morisse. quindi lui l'ha fatto uccidere, ecco, quindi si è attirato addosso l'ira di Dio, ecco, e quindi lui ha commesso adulterio e omicidio. Amen? Ma il Signore non gli aveva imputato peccato con le altre mogli che lui aveva normale, cioè, non mogliere pigliata ad altre. Mi state comprendendo, riesco a farmi capire. Amen? Perché se lui effettivamente gli avesse preso ad altri le moglie avrebbe continuato a commettere adulterio. Amen? Glorie a Dio. Allora, quindi tutto questo, poi, per esempio, c'era il il papà e il padre di di Samuele aveva due mogli pure, Anne e Peninna per esempio, no? Poi non contammo solo moni, ma 700 mogli e 300 concubini, ma io sai tu calendario romano. Pensate, eppure il Signore non non gli imputò mai, vedete, peccato di adulterio, perché tutte quelle che lui aveva erano tutte donne non sposate, ragazze. Amen? Glorie a Dio. Perché se lui avesse preso delle mogli ad altre avrebbe commesso pure lui adulterio. Amen? E lui è stato, vedete, condannato da Dio, cioè rimproverato, accusato da parte di Dio, perché si è dato all'idolatria, cioè ha permesso l'idolatria, perché avendo preso delle mogli pagane, amen? Le donne, quelle donne pagane, avevano, quindi la tendenza sempre a rivolgersi ai loro dei, e quindi lui che cosa faceva? Ci sono i miei mogliere, che faccio? Ecco, pesa in misura uguale per tutti, a me che uno deve avere, anzi, un servo di Dio, non si deve lasciare corrompere, amen? Allora, vogliamo leggere allora, nell'Apocalisse, capitolo 1, Alleluia, allora, Apocalisse, capitolo 1, leggiamo dal versetto 4, Giovanni ha le sette chiese che sono nell'Asia, grazie a voi e pace da colui che è, che era e che ha da venire, e dai sette spiriti che sono davanti al suo trono, e da Gesù Cristo il testimone fedele, il primo genito dai morti ed il principe del re della terra, a lui che ci ha amati, ci ha lavati dai nostri peccati nel suo sangue e ci ha fatti re e sacerdoti per Dio e Padre suo, a lui sia la gloria ed il dominio nei secoli dei secoli, amen? Ecco, egli viene con le nuvole ed ogni occhio lo vedrà anche quelli che lo hanno trafitto e tutte le tribù della terra faranno cordoglio per lui, sì, amen? Io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine, dice il Signore che è, che era e che ha da venire l'Onnipotente ed io Giovanni vostro fratello e compagno nell'afflizione nel regno e nella costanza di Cristo Gesù ero nell'isola chiamata Patmos a motivo della parola di Dio e della testimonianza di Gesù Cristo. Mi trovai nello spirito nel giorno del Signore e udì dietro a me una forte voce come di una tromba che diceva io sono l'alfa e l'omega e il primo e l'ultimo e ciò che tu vedi scrivilo in un libro e mandalo alle sette chiese che sono in Asia ad Efeso a Smirne a Pergamo a Tiatira a Sardi a Filadelfia alla Odicea io mi voltai per vedere la voce che aveva parlato con me e come mi fui voltato vidi sette candelabri d'oro e in mezzo ai sette candelabri uno simile a un figlio d'uomo vestito di una veste lunga fino ai piedi e cinto di una cintura d'oro al petto il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come bianca lana come neve ed i suoi occhi somigliavano ad una fiamma di fuoco i suoi piedi erano simili a bronzo lucente come se fossero stati arroventati in una fornace e la sua veste era come il fraglore di molte acque egli aveva nella sua mano destra sette stelle e dalla sua bocca usciva una spada a due tagli acuta e di un aspetto era come il sole che risplende nella sua forza quando lo vidi caddi ai suoi piedi come morto ma egli mise la sua mano destra su di me dicendomi non temere io sono il primo e l'ultimo ed il vivente io fui morto ma ecco sono vivente per i secoli dei secoli amen alleluia ed ho le chiavi della morte e dell'ades scrivi dunque le cose che hai visto quelle che sono e quelle che stanno per accadere dopo queste il mistero delle sette stelle che hai visto nella mia destra è quello dei sette candelabri d'oro le sette stelle sono gli angeli delle sette chiese e i sette candelabri che hai visto sono le sette chiese alleluia amen quindi fin qui la lettura alleluia scusate che ogni tanto mi viene una specie di travocedere ma se dovesse dire scusate non scusate ma siccome a me non spesso dico una volta ogni tanto no e vado per tutti alleluia ecco quello che il signore mi ha dato da capire ecco leggendo insomma non tutto no è questo e sia glorificato che come mi ha fatto spiegare un'altra volta il signore ha scelto ha scelto sette chiese amen perché si vede che gliene servivano sette però lui fa le sue scelte quando i tempi si maturano ecco per esempio allora oh voi voi per fare le bottiglie no per poi usarle durante l'anno tutto l'anno che ve le fate durante tutto l'anno pure con i pomador loro non costano che osei è vero aspettate quindi il periodo giusto è giusto voi buttate questo esempio voi vi faccio capire anzi per capire io come se c'è una capita a bollo e allora perché effettivamente come noi aspettiamo il tempo dei pomodori per fare i bottiglie è giusto quindi aspettiamo tutto l'anno perché sappiamo che solo in quel periodo le possiamo fare no perché altrimenti non conviene così è il dio lui aspetta le stagioni cioè il periodo adatto per scegliere i suoi elementi che deve usare nel suo progetto amè sono riuscito a far mangiare come hai visto oh e allora ora vedete il signore perché non l'ha fatto né prima né dopo perché si vede che sette elementi come li ha trovati in questo periodo non li avrebbe potuti trovare in altri periodi perché sarebbero state sempre a fuori tempo cioè in poche parole mettere a posto sette testi eh sette pastori no allora cioè averli tutte e sette per farli raggiungere il pari sentimento al servizio di dio perché vedete se non si raggiunge il pari sentimento nel campo di dio non si può servire dio insieme perché amén gloria a dio ci siamo ecco vedete perché eh se noi ce ne accorgiamo anche in politica anche tra di loro dello stesso partito spesso non si trovano di pari sentimento è vero non è vero quindi il signore ecco per scegliere per esempio Abramo lui ha dovuto aspettare chissà quanti migliaia di anni o milioni per potere seguiti la tenente non solo per trovare una persona come Abramo ma contemporaneamente per ehm perché eh in quel periodo eh si doveva trovare una persona simile all'Abramo una persona simile a Sara una persona simile all'Ot guardate che gran fatica a fare un bel modo di dire no eh quando dici il Dio che progetta perché lui deve poter fare inquasare ogni cosa perché per esempio potasse che in un periodo si trovava uno che era simile all'Abramo più o meno che avrebbe potuto usare più o meno come Abramo perché preciso non c'è per dire eh in un altro periodo forse avrebbe eh potuto trovare eh una donna che si avvicinava al carattere di Sara eh però no quindi devono ecco coincidere i tempi e le persone alleluia amen vedete che ecco per realizzare il Dio un suo piano un suo progetto perché lui non può vedete prendere con la forza perché se lui prendesse con la forza allora la cosa non sarebbe più valida perché dice no sei tu che hai voluto hai costretto amen è come quello che uno costringe a uno beve dice no ma doveva bevere no dice ma io siete e tu abbi per la forza quello si è vero verrebbe però nonno se invece io vedo e sento un tuo cuore guarda dico fratello oppure la sorella ah si fratello vuoi un pochino si fratello sei pregato signore vedete come fa coincidere le cose amen ci siamo sono riuscito con questo esempio a farmi capire meglio oh si è glorificato Dio alleluia quindi per potere quindi lui trovare questi sette elementi fratello non è una cosa facile alleluia e noi vediamo come mi ha fatto spiegare questo non me l'aveva fatto spiegare ma questo che sto dicendo adesso il fatto che tutte e sette non erano diciamo tra i migliori questi pastori perché tant'è vero che due soli di loro il signore ha approvato amen gli altri gli diceva tu ravvedi tu fai questo tu fai quest'altro quest'altro ancora vengo ti rimuovo candelapri e così via amen gloria a Dio dice ma allora perché il signore li ha presi ecco siamo lì perché lui ecco vedete gloria a Dio perché non bisogna mai vedete essere precipitosi nel campo di Dio perché le cose devono coincidere vedete fratelli devono essere come un mosaico o come un pazzole come si chiama pazzole ma voi perché scrive uno puzzolo insomma o dice uno puzzolo o pazzole sempre lo stesso un carcino un carcino e insomma e per me far fare una malapocura a me che io non so pronunciare le parole stranieri e allora quindi le cose di Dio devono inquasare come un mosaico oppure come pazzole a me gloria a Dio alleluia e allora ora dice sì ma qua erano solo due quelli che erano insomma mensi mensi ma l'altro cinque erano scadenti erano scasse non erano non si trovavano a posto ecco gloria a Dio guardate si è glorificato il Dio il Signore mi ha dato questo bellissimo esempio come diciamo come sempre quando mi ha detto con te voglio fare un'opera nuova è giusto? allora perché con te voglio fare un'opera nuova? perché vedete scegliendo me per fare un'opera nuova lui ha dovuto aspettare che nascesse io amén con questo carattere eh perché fratello vedete che servire il Signore se non ha un certo carattere non attenzione non confondiamo vedete che uno non aveva di essere presentuoso perché i presentuosi non quaggiano così il Signore non li usa e allora per dire invece fermi com'era che c'era Mosè che aveva il polso duro come se dire amén irremovibile mentre Aronne con tutto che era più grande eh si è lasciato trasportare dagli altri amén gloria a Dio e allora eh con te voglio fare un'opera nuova perché guardate vi spiego subito noi vediamo che già in Messina stesso ci sono un sacco di chiesi tante chiese ci sono sia a Messina provincia poi in Tecalabria Reggio Villa ci sono tante chiese no? oh questo è un esempio per far capire il perché il Signore ha scelto quelle sette chiese quei sette pastori anche se non momentaneamente non si trovavano in regola perché dice io quando allora ah poi ha dovuto fare pure un quagliare a Giovanni l'apostolo perché lo doveva pure usare o lo doveva portare in spirito ripetere in spirito e portarlo davanti al trono del Dio fratelli è poca cosa vedete gloria a Dio quanti elementi ci vogliono per poter realizzare una piccola parte nel campo di Dio dei suoi progetti a me gloria a Dio e allora perché dice ecco lui scegliendo anche quelli che non erano per diciamo in regola ecco tanti altri ah ma cui è il coso lì il pastore ah ma no il pastore della chiesa di Efeso ah il pastore della chiesa di Efeso lo conosciamo qui amen poi per esempio dice la lettera a quello della chiesa di Sminne ah la chiesa di Sminne sì ma poi perché noi non conosciamo tanto buono ma cosa mi ha ridito ma perché se a chi questi scegliendo e a me no dopo tutto che cosa c'è Giovanni capace che erano amici di Giovanni no gloria a Dio quindi perché eh Giovanni allora poi quello della chiesa di Piedamo uh che tu sai che farò tutto no ecco dice che il signore sì è vero così allora però quando io farò pervenire eh la lettera a lui a quello per esempio della chiesa di Efeso o di Bergamo o per esempio di altri di Atira per esempio ecco loro eh accetteranno riconosceranno il loro stato la loro condizione spirituale amén se io gliela mandassi invece a quelli per esempio di Tessalonica eh all'anziano che c'era per esempio a Tessalonica sto dicendo oppure quella della Galazia ai Galati no eh io ma che stai dicendo Giovanni io mi studio e prego notte e giorno io mi sto sforzando di fare la volontà di Dio e tu mi dici che il signore mi ha detto che mi devo ravvedere in tale cosa per orgoglio eh possibilmente quando Giovanna se nannava eh quello no di quella chiesa dice sicuramente qualcuno sa cantare gli ha potuto dire quello che succede in ta nostra chiesa e quindi vedete per la giustificazione non avrebbero accettato tante altre chiese eh quello che eh il Dio in questo caso Gesù vedete gli faceva eh scrivere a Giovanni perché quelli si mettessero in regola ecco per orgoglio no eh guardate come come posso dire perché il signore mi ha dato un esempio che è bellissimo se ci fate a casa c'è stato una volta eh un fratello che seguite la testa c'è stato una volta un fratello che eh ha avuto rivelato da parte di Dio eh dice guarda vai fatto vero questo fatto vero non è eh perché me l'ha raccontato la persona il fratello stesso che gli è successo questo fatto e allora dici guarda cosa fai il signore gli rivelò dice vai da quel fratello in preghiera vai dice da quel fratello dice e portagli mh parecchi anni fa questo è stato ancora c'era la lira eh mi pare che sono state o cento centocinquanta me la lire eh dice vai dice perché dice il fratello tizio ha bisogno centocinquanta me la lire mi pare che erano centocinquanta me la lire quindi questo fratello si alza dalla preghiera voi credi allora si alza dalla preghiera poi va da questo fratello e ci fa pace fratello oh pace fratello senti mi manda il signore dice mi ha detto dice di darti centocinquanta ma la lire perché mi ha detto che ti servono centocinquanta ma la lire già stai sentendo tutti ripeto fatto vero eh e allora io mi sono mi ero dimenticato che c'era cosa che loro che si potevano che sanno cosa si potevano allora dice quindi sono venuto per portarti questi soldi dice perché fratello ma che stai dicendo dice ma tu stai scherzando no non è vero non è stato il signore che ti l'ha detto dice perché io non ne ho di bisogno non è vero dice che io ho bisogno di questi soldi sto fratello no ci calda una pignata d'acqua bugliuta o gelata come gustissima brutta no ma signore allora non sei stato tu che mi hai parlato in preghiera perché è stato si è mortificato perché dice ma si va che è un bisognoso quello lì invece e allora dice no 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 dice no signore gli è venuto da piangere è desparato dice signore fice sta malafagura sta cosa niente ha chiuso lì la cosa dopo qualche settimana un po' pochi giorni poco tempo passò e quel fratello non quello che ci aveva buttato i soldi quello che doveva ricevere i soldi trovandosi a parlare con un altro fratello che aveva una confidenza se sbaglio in qualcosa corregitemi e allora trovandosi quel fratello bisognoso trovandosi a parlare con un altro fratello dice ma che te ne pare dice vuol dire dice mi tagliare la luce che doveva pagare cosa dice ma se viva 150 ma la lire dice qualcosa del genere no dice perché dice vieni un fratello tizio così così però dice io ci disse no dice ma io non si stivo dice lui doveva insistere se ero signore doveva insistere è vero è vero è vero che fu così vedi che stavano dice dice fa dire dice ma ma da chiara luce ci servivano questi soldi però per orgoglio per non sembrare agli occhi dei due fratello guarda ci dava i soldi per orgoglio allora dice no non l'hai bisogno però il tuo suo cuore voleva che non si stia in modo tale che forse in modo tale che lui alla fine avrebbe potuto dire me li sono presi perché tu stai insistendo non perché l'hai bisogno a me fratelli ecco vedete l'orgoglio ora se il signore ho portato questo esempio il signore mi ha fatto portare l'esempio ora se per esempio il signore avesse fatto scrivere delle lettere ad altri pastori loro avrebbero detto per orgoglio no non è vero che io mi sono un test convezione se tu Giovanni che stai facendo così invece a differenza degli altri questi sette non appena hanno ricevuto la cosa dice hai ragione fratello è vero ecco nell'umiltà alleluia amen dice è vero e ringrazio Dio in modo tale che io mi metti in regola come la stessa cosa se io dicessi a un fratello fratello vado signore ma che va là che tu stai facendo cose sbagliate fratello io no non è vero invece era vero per esempio potrebbe essere una cosa del genere no quindi fratelli attenzione che questa sera il signore vedete quello che mi ha fatto capire pure è questo e questo potrebbe accadere anche tra fratelli e sorelle che quando lui riprende parla per orgoglio no come a chi tu di soldi no no non ho bisogno invece è vero ecco una cosa vera è la sinega davanti a Dio vedete quello lì non è stato poi aiutato dice da un'altra persona perché il signore gli aveva mandato a quel fratello non a un altro io che ci farei no il signore non fa bene a questo oppure gli avrà fatto quel discorso all'altro fratello eh dice vada non mi desidermi ora mi dugno tu a me a Dio e il signore non ha proprio perché quello gli avrà dato torto sicuramente perché quando vedete una cosa è da parte di Dio nessuno dà ragione a chi ha torto a me gloria a Dio e allora a questo punto diciamo il signore vedete ha voluto intanto spiegarci del perché che mi pare che qualcosa ci aveva accennato però ecco quello che il signore mi fa sentire che non è tanto la spiegazione che quelli si sono ravveduti ma perché anche noi potremmo cadere nell'errore degli stolti che quando una cosa è vera no fratello no il signore no ma non ti poto dire il signore a me invece la cosa è vera alleluia vedete ecco perché gli altri pastori non sono stati scelti e quelli si e c'è neanche che non interessa ora del passato e no perché al presente come in ogni tempo il signore ha bisogno di elementi nuovi e quando per esempio il signore potrebbe scegliere un fratello o un fratello o dei fratelli o delle sorelle che effettivamente si trovano in errore a me e allora e il signore dice stasera senti tu stai facendo cosa stotti no io signore no allora tu via io non ti sceglio allora qualche altro ma tu signore vada me leggi un tuo cuore ma stasera ho avuto questo signore mi parlavo direttamente io mi sono contato questa cosa signore abbi pietà di me allora tu sarai scelto vedete che bello essere sinceri leali e onesti alleluia non coprire mai i falli ecco ma confessarli alleluia perché e ripeto fratelli ve lo dico in verità non sento si il signore ci ha spiegato una parentesi ci ha spiegato che il perché lui ha scelto quegli elementi e non altri perché allora c'erano altre chiese come me l'ha fatto dire un'altra volta però questa sera non è tanto per loro non è a livello di ammaestramento ma a livello di richiamo è come se in poca parola stasera il signore stasse mandando una licea personale a tutti noi che siamo qua no? allora dice vabbè vabbè io mi sento in regola mi sento a posto mi sento a casa ecco per esempio il mio caso fratelli se io sentissi effettivamente di trovarmi nell'errore ma che farei ci diria no signore oppure a voi a voi direi no sapete fratelli io mi sento nel giusto e invece non sarei vero che dentro di me mi sentirei in peccato in errore ma nel modo più assoluto alleluia amene se dico questo e perché effettivamente di me parlo di me se io parlo dico questo e perché mi sento e quello che dico chiedo sempre al signore signore fammi vedere i miei difetti che tu mi vuoi bene tu vuoi bene a tutto tu saggio ma io voglio vedere i miei difetti e non voglio sbagliare preservami dal male dalle tentazioni gloria a Dio amene e noi prima cadiamo aspettiamo di prima di cadere signore perdonami no signore io ti prego fammi vedere prima di cadere amene e quando tu signore parli che io possa capirlo alleluia amene e il signore intanto ci ha dato a capire perché fratelli voi che pensate che dopo tanti anni ora il signore non mi avrebbe fatto capire dove ho sbagliato o sto sbagliando dopo che ho ci chiedo se non glielo chiedesse dici tu non mi hai chiesto mai come ti faccio ma se io glielo chiedo del continuo io non è notte di farmi vedere signore non mi fare sbagliare non mi fare sbagliare né con opere né con parole né con pensieri né con niente perché io voglio servire il signore e il signore si deve servire nella lealtà più assoluta nella trasparenza perché uno appunto non deve essere additato come o dice tu sei un falso io signore tu non puoi essere da parte di Dio no perché la nostra coscienza già ci deve accusare eh o assolvere alleluia amè gloria a Dio fratelli e cam femmo alleluia amè e dico grazie signore per tutto quello che ci sta insegnando amè gloria a Dio grazie 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 a Dio gloria al tuo santissimo nome voi signore tu hai detto siete la luce del mondo il sale della terra, una città posta sopra un alto monte, alleluia gloria al tuo nome, quindi ti chiediamo grazie che lo Spirito Santo ci faccia brillare ovunque, Signore e in qualsiasi momento, in qualsiasi circostanza, perché vogliamo esserti figlioli e servitori, Signore in ogni luogo, in ogni tempo, Signore e per tutta l'eternità, quindi accompagnaci anche questa sera alle nostre case, con la tua santa unzione, con il tuo santo perdono, con la tua santa benedizione, nel nome di Gesù, benedetto io con te in eterno, amen, alleluia, amen, e Dio sia lo carico. Ed abbiamo ancora insieme seguito la parola del Signore attraverso questo culto già andato in onda. Vi ricordo che tutti quelli già trasmessi sono per sempre a nostra disposizione sul nostro canale YouTube ed anche sulla nostra pagina Facebook. Per quanto riguarda il culto, vi do appuntamento a Dio piacendo alla prossima volta, vi ricordo che i culti vanno in onda ogni martedì e venerdì sera, come quello di oggi, e per quanto riguarda la diretta invece del fratellonino, ogni domenica mattina, sempre via radio, su YouTube e Facebook in diretta, alle 10 e un quarto, la domenica alle 10 e un quarto di mattina. Per maggiori informazioni, chiamateci pure a questo numero, 349-64-11-232. Risponde Radio Messaggio Cristiano, ripeto, 349-64-11-232. Vi do dunque appuntamento alla prossima trasmissione del culto e buon ascolto con la pace di Gesù di tutte le trasmissioni di ogni giorno di Radio Messaggio Cristiano e in questo momento sta andando in onda l'ultimo per quanto riguarda questa giornata. Pace, alla prossima volta!